La Campania resta zona gialla nonostante siano arrivate nella serata di ieri nuove disposizioni dal governo che hanno deciso l'inserimento anche per la Basilicata e la Puglia nella zona arancione. E mentre il governatore della regione Campania invita il ministro della salute ad un chiarimento in un confronto pubblico ed immediato sui dati della regione alludendo a sciacallaggio mediatico sulla sanità ed elogiando nel contempo il lavoro fatto da medici ed infermieri diversi sindaci a difesa delle loro comunità e mandano provvedimenti restrittivi al fine di limitare i rischi contagio. Ma non sono solo i comuni in cui si registra un elevato numero di contagi a optare per il fai-da-te nell'emissione di nuove disposizioni restrittive. Anche il comune di bello sguardo infatti pur contando al momento casi di contagio zero ha deciso di emettere ordinanze restrittive per limitare i rischi. Lo ha fatto trincerandosi dietro al no entry vietato entrare. Nella giornata di ieri il sindaco Giuseppe Parenti ha firmato l'ordinanza di carattere contingibile e urgente che a partire da domani 11 novembre vieta l'ingresso e la circolazione sul territorio comunale a tutti i venditori al dettaglio in forma itinerante proveniente da qualsiasi altro comune del territorio nazionale. La situazione in atto, si legge sul documento, suggerisce l'adozione di nuove misure improntate alla massima tutela della salute pubblica in funzione del contenimento del contagio da virus covid-19. Anche Caselli in Pittari teme che i contagi accertati in altri comuni possano allargarsi fino a raggiungere il piccolo centro. Il sindaco però in questo caso non chiude gli ingressi ma si limita a forti raccomandazioni verso i propri cittadini ricordando come già nelle scorse settimane erano stati accertati casi di positività dovuti ad un contagio di ritorno. La preoccupazione del sindaco di Caselli potrebbe derivare soprattutto dall'ampliarsi del numero dei contagi nei paesi vicini come Sanza, Buonabitacolo, Santa Marina e San Giovanni Appiro. Perché la situazione si normalizzi, dichiara il sindaco, è necessario che ognuno di noi faccia il massimo per proteggere se stesso, i propri familiari e gli altri.